buon pomeriggio come al solito aspetto che un po di pubblico che è stato informato si popoli man mano che instagram avverte che siamo in diretta e come anticipato stamane oggi piuttosto che dare la parola ad un singolo ospite come in quasi tutte le puntate del word talking conversation ho preferito in arrivo visto l'arrivo della presentazione della domanda all'inps per quanto riguarda l'indennità prevista per il mese di marzo di tutte le persone sia a partita iva dipendenti in qualsiasi categoria ma in particolare ovviamente intanto incomincio a salutare un po di persone ciao cristina oggi come dicevo piuttosto che avere un ospite in particolare all'interno del word talking volevo dare qualche informazione alle persone che fanno parte chiaramente della mia stessa categoria quindi qualsiasi persona vuole porre una domanda man mano che io faccio un po un discorso generale riguardanti appunto l'indennità prevista potete farle tranquillamente e chi vuole può addirittura partecipare attivamente e chiaramente aprirò la diretta affinché possiate dialogare farmi una domanda avere l'opportunità chiaramente ciao cristina avere chiaramente l'opportunità di pormi qualche domanda nello specifico se ancora avete dei dubbi ovviamente so che ognuno di voi ha un commercialista o comunque una persona nello specifico o all'interno di un caffo oppure un professionista vero e proprio che vi segue però qualche informazione in più non fa mai male allora vediamo la prima domanda come arrivare al tuo team come truccatore intanto saluto qualcun altro allora cristi per arrivare al mondo vor makeup va da sé che vor makeup è un brand indipendente che ho costituito un paio di anni fa e la necessità primaria chiaramente per aderire all'interno del mio team è quello di avere un vor kit per gli eventi attualmente vor makeup da l'opportunità alle persone che o acquistano appunto un pacchetto di prodotti o perché provengono da una delle accademie vor makeup o perché hanno partecipato ad uno dei miei percorsi master in fashion o master in wedding di avere poi l'opportunità di avere una scontistica dedicata che vi permette di rimanere in contatto con noi dopodiché daniela che è la persona che da info chiocciola vormakeup.com vi dà tutte le informazioni che desiderate cerca di capire in quale maniera vorreste far parte del team attualmente ripeto le opportunità sono o di aprire uno studio makeup con noi o di aprire un'accademia con noi oppure l'opportunità una tantum avendo un kit vor di poter partecipare a quelli che sono eventi nazionali ed internazionali faccio però una precisazione intanto saluto ciao chiara faccio però una precisazione è chiaro che gli eventi ce ne sono di molto grandi come quando partecipo a eventi nazionali dove mi si richiede comunque di costituire un team di 30 40 persone ed ovvio che accaduta le chiamate sono prima gli ambassador che sono i titolari di accademia poi le persone studenti che in questo momento o hanno finito i percorsi accademici vor o in che in questo momento sono quasi in fase finale o le persone che hanno partecipato ripeto alle mie master spero di averti dato le informazioni che desideravi e comunque ripeto possiamo rimanere assolutamente in contatto e per qualsiasi cosa o via mail o via direct message possiamo fornirvi ulteriore informazione se non ci sono domande nello specifico intanto saluto le persone che appunto si stanno inserendo man mano in questa diretta e vi ringrazio per il tempo che mi state dedicando continuo a dare appunto le informazioni su come presentare a partire da lunedì 27 marzo la domanda di sussidio per quanto riguarda l'indennità prevista a causa covid qualcuno di voi già ha avuto modo quindi magari mi potete anche scrivere così o percepisco capisco se qualcuno di voi ha già avuto qualche informazione dal proprio commercialista e quindi se riusciamo a mettere insomma insieme delle informazioni oppure se avete proprio bisogno di informazioni perché ancora nessuno ve le ha date io spero di sì visto che i termini ormai sono proprio vicini volevo sfatare anche un'altra informazione che ho letto che mi avete scritto ma che al momento per quanto riguarda il mio commercialista che comunque ovviamente oltre a seguire valerio orlando come figura professionale segue anche tutto il mondo core makeup è sicuramente una persona che nel giro degli ultimi anni si è anche istruito all'interno di quella che è la categoria mia che mi appartiene come makeup artist quindi per le persone che mi hanno scritto che avevano dubbio che qualcuno potesse prendere il sussidio e qualcun altro no vi assicuro che il sussidio attualmente viene garantito a tutti l'unica cosa importante è saper presentare bene la domanda e nel frattempo leggo aspettate il mio commercialista mi ha detto che verrà fatto tutto tramite il sito inps infatti infatti sabbi benvenuta esattamente voi avete in realtà due possibilità ma diciamo che la seconda in un termine come adesso di quarantena è impossibile ovvero l'opportunità è prevista o direttamente dal sito dell'inps ciao gabri o direttamente dal sito dell'inps oppure andando presso i patronati di zona ma vi ripeto presso i patronati di zona in questo momento è impossibile presentarsi motivo per il quale la domanda viene fatta tramite l'inps allora nel momento in cui vi collegate al sito dell'inps sarà fondamentale che voi abbiate chiaro all'interno di quale categoria siete stati inseriti quindi facciamo la prima distinzione tutti quelli che sono truccatori che normalmente lavorano per il mondo dello spettacolo quindi non lavorano come trucco artigianale per trucco artigianale intendiamo tutti i truccatori che sono adibiti al trucco correttivo con le proprie clienti mentre invece per truccatori iscritti all'inps intendiamo tutte le figure le categorie dei truccatori che lavorano esclusivamente per il mondo dello spettacolo per il mondo dello spettacolo si intende la televisione si intende il cinema si intende il teatro si intendono i servizi fotografici altra differenza ancora sono i truccatori che sono presenti all'interno di un'agenzia di freelancer questi chiaramente nella maggior parte dei casi sono geolocati o su milano la maggior parte o su roma in questo caso voi potete essere o iscritti appunto come parte contributiva all'empals e quindi l'agenzia in quel caso ovviamente verserà i contributi lavorativi presso il vostro istituto rispetto all'inps oppure sarete voi direttamente questi sono degli accordi che si prendono normalmente con le agenzie oppure essere iscritta ed essere presente all'interno di un'agenzia di freelancer lo si può fare anche aprendo una propria partita iva quindi nel caso in cui avete una partita iva bisogna capire se siete in una gestione artigiani commercianti oppure in una gestione separata in inps qual è la differenza tutti i truccatori che fanno parte mi dispiace c'è qualcosa che non va puoi riprovare è partito ogni tanto non so se capita anche a voi ma ogni tanto siri decide di parlare ciao sarà nel frattempo benvenute le persone che si stanno avvicinando a questa diretta no vi dicevo chiaramente la differenza tra la gestione separata inps e invece la parte artigiani commercianti dipende nel particolare nel momento in cui vi siete avvicinati alla camera di commercio con quale codice a teco vi siete iscritte ciao tesoro in con cui vi siete iscritte nel senso ma ciao ma ciao ragazze vi ringrazio vi ringrazio veramente di cuore per la partecipazione questo può essere anche un modo per chi mi conosce semplicemente o tramite una foto tramite un video che non è la stessa cosa di una diretta vorrei farvi percepire che sono vicina a tutte voi e questo periodo sicuramente un periodo durissimo per tutti e tutti ci poniamo ragazze le stesse domande la cosa importante poi riprendo il discorso del dell'inps così facciamo anche un momento un po più leggero perché sono chiaramente dei dati delle informazioni che devono essere prese anzi se non siete proprio pratiche unitevi di carta e penna in maniera tale magari da assegnarvi qualche cosa in particolare di cui non siete perfettamente consce e che quindi dovete ancora fissare per magari fare una domanda particolare al commercialista o al vostro CAF vi dicevo sono particolarmente vicina a tutte voi anche perché prima di quello che è stato il momento del coronavirus mi rendo conto che all'interno della nostra categoria ci possono essere dei gruppi più o meno grandi di assemblamento proprio anche nel mondo internet ci sono molti brand e quindi normalmente in quello che è una parte di vita regolare normale non si è sempre dalla stessa parte della barca a remare no quindi si costituiscono dei mini gruppi ma in questo momento particolare ragazze con tutti i truccatori con cui mi sto confrontando telefonicamente via mail in direct message ritengo che sarebbe veramente molto molto importante essere tutte unite dalla stessa parte perché già siamo una categoria a rischio già siamo una categoria che ha pochissimi diritti non abbiamo un albo sapete bene e anzi per chi si è persa la puntata della propria della scorsa settimana vi ricordo che andando sul sito youtube e cercando il canale vormakeup troverete tutte le puntate precedenti del vortalking così potete anche recuperare le informazioni sulla puntata con monica bucuni che è un'altra collega con cui abbiamo fatto chiarezza proprio sui codici a teco quindi se qualcuno è interessata può andare sul canale youtube e prendere le proprie informazioni spero tra l'altro vivamente che questo momento che chiaramente dedico completamente in maniera super onesta standovi ripeto il più possibile vicino con un pochino più di esperienza perché di fatto sono 30 anni che svolgo questa attività e negli ultimi 10 oltre a continuare quella che è la professione la parte creativa che a nessuno di noi ovviamente se abbiamo scelto questa professione sappiamo che l'idea proprio di maneggiare i pennelli trattare la materia scegliere il colore ideale per la cliente o per la modella fare un servizio fotografico ottenere quel credito insomma tutti quelli che sono gli strumenti a noi concessi per garantirci visibilità e poter mostrare quello che abbiamo dentro di noi sia una parte importantissima che non deve morire mai però io mi spingo un po' più in là perché ho fatto questo passo importante anni fa proprio di costituire una linea di make up per me è stato fondamentale perché è chiaro che dopo tanti anni avendo prestato servizio nelle più grosse agenzie internazionali da milano a parigi new york e dove attualmente ancora sono rappresentata per me era fondamentale anche immaginare di poter dalla mia esperienza poter dare una mano ad altri truccatori anche perché ciao dalila benvenuta anche perché ciao cate la cate laiena non lo so però va bene spero di averlo pronunciato bene è chiaro che ho sicuramente qualche informazione in più non sono mai presunto non sono mai presuntuosa quindi è sempre un modo di confrontarsi però quello che è sicuro è che prima di fare una diretta mi confronto con i vari professionisti per essere informata informata sul tema informata di questi tempi con tutta la parte che facciamo in cucina potrebbe essere anche un'opportunità sicuro che non c'è nessuno che vuole venire in diretta che vuole fare una domanda come lo hanno fatto prima tra tutte le persone che sono presenti ciao caterina bene allora adesso abbiamo un nome caterina se hai bisogno di qualche informazione nel particolare mi fa piacere che tu abbia accolto il mio invito e sono qui chiaramente per darvi o informazioni come le stiamo dando appunto sul tema dell'inps su come presentare la domanda oppure su qualsiasi altra cosa vi possa interessare nel frattempo fino a quando non arrivano domande o fino a quando non c'è qualcuno che vuole venire in diretta continuo con darvi le informazioni quindi una volta entrato sul sito dell'inps dipende anche da quali strumenti elettronici avete per poter comunicare con il sito dell'inps e a che cosa mi riferisco sapete che ormai è obbligatoria avere una legal mail oltre quelle che possono essere le varie mail che aprite su gmail yahoo libero e quanto ce ne siano ma è obbligatorio per chi invece ha una partita iva che è legata o a un'azienda o un'attività per quelle che sono le comunicazioni ufficiali che arrivano dall'agenzia dell'entrata dall'inps o da altri enti istituzionali avere una casella di posta elettronica che potrete scegliere tra i vari istituti via internet che permettono appunto di aprire la propria mail legal mail tra virgolette io per esempio l'ho fatta con info shirt ma c'è team ci sono veramente tanti servizi che forniscono a proposito mi date conferma che tutte quante voi che siete qui di quelle che hanno un'attività non come dipendente ma come libera professionista al di là ripeto che siate partita iva con codice teco o che siate una libera professionista che invece versa i contributi all'empals vorrei sapere quante di voi sanno della necessità di avere una posta certificata intanto questa è la prima domanda bene nel momento in cui avrete quindi la posta certificata e avete aperto la vostra posizione in camera di commercio e incominciato a versare i contributi all'inps sicuramente l'inps vi ha fatto arrivare una lettera dove una prima parte del vostro codice pin vi è arrivata via mail e un'altra parte di codice pin vi deve essere arrivata tramite una busta sigillata vostra personale e nel momento in cui create tutto il codice pin entrando nel sito dell'inps non dovete fare altro che commutare quel codice pin che avete entrando con il vostro username con la vostra password cercate in alto nel sito dell'inps dove c'è scritto pin e inserite il vostro pin nel momento in cui avete inserito il vostro pin vi verrà chiesto di creare un altro pin che si chiama pin pack con Aruba benissimo, perfetto, grandiosa, brava vi verrà chiesto quindi di convertire il vostro pin numerico in un pin dispositivo solo attraverso il pin dispositivo potrete accedere, ciao Sveva, a fare la richiesta presso l'inps per, ripeto, l'indennità prevista per il mese di marzo aggiungo un'altra informazione importante per chi si è collegata man mano che non soltanto non è più in dubbio che qualcuno lo prende e qualcuno no perché all'inizio si diceva che in gestione separata l'avrebbero preso e invece quelli che erano fuori dalla gestione separata non avrebbero preso questo sussidio anche qui soffermiamoci un momento ciao Paola e benvenuta allora la differenza è che, ripeto, la gestione separata ci vanno a finire tutti i truccatori all'interno della nostra categoria che lavorano esclusivamente per il mondo dello spettacolo e che quindi invece che avere l'inps hanno l'empals oppure hanno lo stesso l'inps ma verso un'ingestione separata invece nel mio caso che oltre ad essere una libera professionista o anche un'attività di vendita di cosmetici ovviamente io invece sono scritta con la mia partita IVA e con il mio codice Teco in quella che è invece la gestione del cassetto previdenziale degli artigiani e dei commercianti quindi mi raccomando nel momento in cui entrate con il PIN dispositivo deve essere chiaro se dovete andare o in gestione separata o artigiani e commercianti questo era per tutti quanti le persone che mi stanno seguendo era chiaro? faccio questa domanda sperando che qualcuno risponda in maniera tale da essere sicura che le informazioni che stanno arrivando non solo le conoscevate e se non le conoscevate sia chiara adesso la differenza beh, aspetto che qualcuno risponda e intanto mi porto avanti allora, ovviamente ho aperto anche il mio computer per poter essere il più preciso possibile quindi, ripetiamo, entriamo sul sito dell'INPS clicchiamo, richiediamo la possibilità di entrare tramite username e password e poi inseriamo il nostro PIN altra, mi soffermo su un'altra opportunità al di là di quella che è la trasformazione del PIN da numerico a dispositivo c'è un'altra opportunità, sempre per chi ha la posta certificata molti di questi servizi via internet danno l'opportunità anche di avere lo speed sapete cos'è lo speed? mi soffermo e leggo una domanda ho guardato il sito dell'INPS e c'è anche scritto che non c'è un click day perché all'inizio si parlava anche del fatto che solo i più veloci si sarebbero aggiudicati l'indennizzo mi pare non sia così no, ti confermo Sabi che assolutamente non è così chiaramente combattiamo oltre che con quelle che sono le informazioni anche con le fake news e quindi vi posso dare per certo, per scontato che attualmente, ecco, anche qui facciamo la differenza io vi posso garantire che attualmente rispetto a quello che è il decreto salva Italia e il sussidio è stato assicurato a tutti ma voi sapete anche che il Consiglio dei Ministri quasi un giorno sì e un giorno no sta cambiando l'autocertificazione per poter uscire sta cambiando quello che è il totale ammontare che noi avremo a disposizione per uscire come Italia in tutte le categorie merceologiche del mondo lavorativo e quindi queste novità cambiano sostanzialmente di giorno in giorno ma le ultime informazioni che sono state date e che quindi sono state date ai commercialisti quindi ai professionisti di settore esatto, ci sono dei cambiamenti ogni giorno intanto salutiamo un'altra persona che si è giunta però ti ripeto, attualmente sembrerebbe che è garantito a tutti vi stavo parlando dello SPID quanti di voi sanno che cos'è lo SPID? lo SPID è uno strumento elettronico che potete richiedere o tramite, basta che mettete proprio SPID su Google vi si apriranno una serie di siti che offrono questo servizio lo SPID non è altro che una certificazione visiva dove praticamente alcune agenzie tramite internet scannerizzano il vostro volto vi fanno una serie di domande e vi fanno superare una serie di PIN, password, codici che dovete utilizzare normalmente per entrare nei siti istituzionali che non è soltanto l'INPS è l'agenzia delle entrate tanti tanti altri siti istituzionali che riguardano chiaramente i pagamenti sia delle tasse che dei contributi io per esempio SPID e ho già fatto ieri la prova prima di collegarmi oggi con voi per capire se l'INPS appunto era pronto con SPID a bypassare il problema dell'inserimento del PIN quindi per chi ha SPID sappiate che è una procedura ancora più veloce non dovrete andare a inserire il PIN numerico e trasformarlo in PIN dispositivo ma potrete accedere direttamente con SPID a quel punto cosa succede? una volta ottenuto il PIN dispositivo sarete all'interno del mondo INPS dove ad oggi ancora non è presente nulla perché appunto il servizio parte da lunedì quindi io mi sono collegata ieri e ho visto che ci sono chiaramente tutti i decreti e tutte le informazioni che riguardano il mondo dei lavoratori prima durante il terribile momento del covid ma non ancora il dopo ovvero quello della presentazione della domanda se avete seguito i canali in chiaro informativo e quindi parlo dei vari telegiornali avrete notato anche che per poter distribuire al meglio le opportunità di dare ad ognuno di noi che in questo momento è fermo questo sussidio sono stati fatti chiaramente degli intervalli intervalli anche per quanto riguarda i pensionamenti infatti le pensioni vengono pagate già da oggi ma in turni a livello di lettere in maniera tale da consentire il fatto che non ci sia né troppa gente chiaramente negli uffici bancari o negli uffici postali e che quindi non si crea la famosa e solita procedura di potersi contaminare l'un l'altro per l'assemblamento leggo ancora Sabi cosa mi scrivi allora qualora si fosse dimenticato il PIN ma si fosse già entrati in precedenza nel sito IMS c'è la possibilità di richiedere un nuovo PIN che verrà inviato tramite mail e sms allora sicuramente c'è anche un numero di telefono da parte dell'IMMS per tutte queste procedure sicuramente però se hai un commercialista o un CAF che ti segue oltre alla documentazione che tu trattieni a casa hai l'obbligo di avere anche una parte di tutta la tua documentazione data anche al commercialista e normalmente sia i commercialisti sia i ragionieri che lavorano al CAF svolgono delle pratiche dove voi avete già firmato la liberatoria dando a loro l'opportunità di muoversi all'interno di quello che sono agenzie delle entrate e IMS come se foste voi quindi lì dove tu non dovessi trovare più nessuna parte del PIN e in questo ti chiedo Sabbi hai perso sia la parte che ti era arrivata via mail oltre a quella cartacea perché sarebbe importantissimo almeno conservare la parte cartacea in un luogo sicuro in maniera tale che la seconda parte quella elettronica possa essere richiesta di nuovo al sito dell'IMMS quindi o scrivete una mail o con tanta pazienza perché immaginate quello che può essere adesso da lunedì chiamare il servizio dell'IMMS provare a contattarli e richiedere il problema non era una domanda avevo dimenticato il PIN e ieri ne ho chiesto uno nuovo ah ok scusa perché ogni tanto chiaramente visto che le scritte passano davanti a tutti i messaggi che arrivano per me non è sempre facilissimo leggere quello che mi chiedete quindi scusa non avevo capito che era una domanda bene quindi l'hai fatto e ti hanno già risposto immagino ancora di no però comunque quella sì quella è la procedura altra notizia che volevo sfatare perché anche di questo si è parlato e anche io ero caduta in questo dubbio in un paio di mie mie storie lo avevo anche denunciato nel frattempo saluto anche Kate che sta con noi benvenuta le 600 euro che all'inizio si pensava che fossero tassate sono esentasse quindi so ragazze che sono veramente un buco in fondo al mare perché chiaramente 600 euro costituiscono soprattutto per chi ha un'attività propria come me e come tante altre veramente una risorsa scarsissima e peraltro chi invece al momento fa parte di una snc un srl quindi una qualsiasi società ahimè è l'unica categoria che in questo momento è esclusa quindi lì non ho informazioni da darvi perché anche io sono attualmente ancora una ditta individuale proprio quest'anno avevo deciso per ovvi motivi perché vorra sta crescendo aumentano le vendite anche in paesi internazionali e quindi mano a mano che si cresce per una sicurezza anche personale che qualunque cosa accada nel male soprattutto perché se va bene non ci sono problemi ma se qualsiasi cosa fa male la differenza tra avere un snc un srl o un'altra qualsiasi forma societaria la differenza chiaramente è che con una qualsiasi forma societaria tutto il capitale che tu inserisci all'interno della società è quello che copre qualsiasi danno o il pagamento di una non fornitura un attacco qualsiasi cosa si limitano a prendere i soldi che sono stati versati a livello societario quando è una ditta individuale va da sé lo capite bene che si possono appellare in caso di non pagamenti o di altri problemi anche ai vostri beni personali quindi questa è un'altra differenza che secondo me era importante vedo che non ci sono molte domande e quindi questo significa in assoluto due cose o che eravate già ben informate e questo mi fa strapiacere oppure ci siano parecchie persone timide ma ripeto volentieri chi vuole fare una domanda o chi vuole venire in diretta basta che clicca sulla opportunità di avviare una diretta con me e sarò felice e di conoscervi e di interloquire con voi bene per quanto riguarda la parte IMS direi che se non ci sono domande l'iter è questo e quindi lunedì non ci sarà bisogno veramente di muoversi con super rapidità per avere paura di rimanere fuori dall'opportunità di ricevere il sussidio quel poco almeno fino ad oggi è garantito a tutti quanti invece per le persone come all'inizio quando ci siamo collegati che mi hanno chiesto come si fa a far parte del mondo VOR magari se siete d'accordo posso darvi qualche informazione in più sul mondo VOR e sui prodotti allora per quanto riguarda VOR innanzitutto la prima cosa non so quanti di voi al di là di essersi collegati qui con me e quindi di conoscerci conosceva già il brand attualmente esiste un sito ufficiale che è vormakeup.com esiste una pagina ufficiale su facebook e esiste una pagina ufficiale su instagram quindi i canali istituzionali sono questi dopodiché per qualsiasi tipo di informazione abbiamo una ragazza eccezionale che ormai lavora con me da anni ciao massimo ciao luca benvenuti che si occupa del servizio casso merker di vormakeup e che a info chiocciola vormakeup.com vi da chiaramente tutte le risposte alle domande che ci ponete quindi da come si fa ad aprire uno studio make up con noi a come si fa ad aprire un punto formazione un lavoro academy fino a semplicemente come si fa a partecipare come team all'interno di quella che è la squadra vormakeup allora vor è un mondo indipendente che ho costituito circa sette anni fa dico sette anni fa perché nel 2012 dopo essere ritornata dopo quattro anni lavorando in Brasile per Condenast Sud America quando sono ritornata in Italia chiaramente ho trovato una situazione italiana soprattutto a Roma che è stata la città che mi ha ospitato per tanti anni che era profondamente cambiata quindi tutto quello che avevo lasciato qui in Italia nel 2008 non era più la stessa cosa di quando sono rientrata nel 2012 Roma era sicuramente una città che non offriva più le opportunità di lavoro che c'erano prima sia diciamo le agenzie di modelle sia le agenzie che offrivano lavoro ai truccatori in ambito pubblicitario piuttosto che le grosse agenzie che rappresentavano i fotografi erano fortemente diminuito e non credo ma almeno da non solo ricordi ma da testimonianze con truccatori con cui scambio informazioni che la situazione sia cambiata ed è il motivo per il quale molti poi cercano di migrare chiaramente a Milano con l'opportunità di essere inseriti in un'agenzia sappiate che anche questo non è per niente facile molti anni fa avere l'opportunità di essere rappresentata da un'agenzia aveva un valore anch'esso ben diverso da quello che è oggi nel senso che un truccatore che arrivava a Milano che aveva un bel portfolio ma senza neanche nomi importanti all'interno di quelli che erano i magazine conosciuti aveva comunque l'opportunità di poter entrare quantomeno come assistente all'interno di un'agenzia successivamente invece dal 2015 in poi le cose sono notevolmente cambiate ormai anche le agenzie che fanno fatica e si fanno delle lotte anche fra di loro notevoli non possono assicurare più a tutti i truccatori un posto all'interno dell'agenzia e quindi fanno anche loro una selezione la selezione nella maggior parte dei casi non viene più fatta attraverso la qualità dei lavori ma attraverso il portfolio personale che avete dei vostri clienti quindi anche lì c'è da fare attenzione perché mentre una volta l'agenzia vi dava del lavoro oggi è quasi come se il mondo si fosse rigirato ovvero siete voi che con il vostro portfolio per avere l'opportunità di lavorare in un'agenzia e fare anche qualche lavoro più importante entrare in quello che è il giro poi dei freelancer che vengono chiamati dai vari fotografi con cui ci si trova bene dai vari magazine le riviste gli stylist e quant'altro hanno ripeto una richiesta di avere un portfolio già cliente abbastanza copioso quindi anche questa strada al momento non è più una strada così tanto percorribile detto questo nell'andare avanti all'interno di quello che è il mondo for make up come vi dicevo quando sono arrivata a Milano nella mia seconda vita no perché la mia parte Milano dei primi anni è stata chiaramente alla fine degli anni 90 quando nel 99 arrivando a Milano per la prima volta è di la fortuna girando per le famose agenzie di cui vi parlo di arrivare alla make up image che oggi non esiste più di Renato Berardi che è stato per anni il truccatore personale di Donatella Versace arriva qualche telefonata tra l'altro fastweb quindi scocciatori e quindi la diretta va giù e quindi la mia grande fortuna fu quella di presentarmi nel posto giusto evidentemente e al momento giusto perché comunque subito dopo una settimana ancora non vivevo a Milano dopo che ho fatto il colloquio fui chiamata a Roma e da lì sono nati i miei famosi quattro anni che mi hanno dato il posizionamento diventando la personal make up artist di Donatella Versace quindi per chi non lo sapeva ecco anche un po' di storia fare questo lavoro ragazzi lo si può fare in tante maniere io vedo che ci sono dei colleghi che per tutta una vita seguono i personaggi ed è un tipo di lavoro apprezzabile sicuramente che però denota una qualità importante che è la capacità di essere sempre disponibile con la persona con cui vi confrontate soprattutto quando è un personal oggi come oggi io non potrei più fare questo tipo di lavoro perché comunque i miei interessi sono diventati degli interessi molto più vasti molto più ampi oggi il desiderio è quello di arrivare con il mio Vormakeup non solo come ho raggiunto quello che è il territorio italiano aprendo comunque otto filiali dei lavori academy da nord a sud ma anche quello di aprire tanti studi make up e quindi di dare il mio contributo con un prodotto di eccellenza italiano su cui ho lavorato tantissimo quali sono le caratteristiche di questo prodotto sostanzialmente la prima cosa è che Vormakeup oltre ad essere un prodotto italiano contiene una pigmentazione che parte da un 57.9% la pigmentazione è molto importante e voi vi chiederete ma se un prodotto è così pigmentato avrà una resa molto coprente sì e no nel senso se io utilizzo il mio prodotto puro il fondotinta in particolare che tra l'altro esiste nel formato fluido e poi esiste anche nel formato compatto sempre in crema ma compatto la differenza fra i due fondotinta è che uno è fluido e l'altro invece e contiene acqua e l'altro invece è compatto in crema ed è puro quindi non è stato diluito ad acqua fino all'anno scorso tutti i miei fondotinti erano privi di parabeni ma ancora avevano all'interno un unico silicone definito inerme tutte le informazioni tra l'altro sulla qualità del prodotto la trovate sempre sul sito Vormakeup sotto la parte denominata give love first e la parte del skin tone match e invece la bellezza proprio e l'essersi portati avanti anche perché ormai il mondo ci richiama molto al green al bio e io non avevo devo dire voglia ciao Emanuela benvenuta la parte dell'Inps è già stata trattata quindi poi quando la metterò sul canale YouTube ognuno di voi potrà prendere tutte le informazioni che sono già state dette e siccome dicevo non c'è nessuno che in questo momento vuole venire in diretta o un po' per timidezza o per altro e non ci sono delle domande nello specifico chiaramente sto dando random delle risposte che sono state chieste prima su come si può entrare a far parte del mondo vor e quindi stavo proprio esponendo quelli che sono i concetti base quindi vi dicevo fino all'anno scorso c'era un unico silicone inerme qual è la differenza tra un fondotinta che contiene tanti siliconi che non sono conosciuti tutti e quello che ne contiene solo uno e che non ne contiene allora tanti siliconi insieme ovviamente sapete che i siliconi contengono e sono dei derivati del petrolio chiaramente sono raffinati e quindi lontano da me dire e dirvi che mettere un fondotinta che abbia un silicone vi possa creare dei grossi problemi perché ormai ragazze basta uscire anche in giro per la città e non soltanto in una città come Milano ma tranne che non siete delle ascete vivete in una montagna qualunque aria in questo momento è contaminata da varie polluzioni industriali smog e quant'altro e quindi mettere un fondotinta che abbia dei siliconi è sicuramente meglio che uscire senza ma portarsi avanti significa studiare e migliorare perfezionare il proprio lavoro e i propri strumenti affinché si possa essere sempre nella capacità di ideare qualcosa di nuovo da offrire ai propri clienti e si ha anche l'opportunità di essere certi di stare di fare qualcosa che vada nella direzione della biodiversità e la più bella notizia di quest'anno è proprio che tutte le formule dei fondotinta VOR sono state di nuovo per la terza volta cambiate quindi a breve anche sul sito verranno cambiate le liste inci nel momento in cui inserirò i prodotti nuovi di cui in questo momento c'è una parte formula vecchia sui fondotinta e una parte formula nuova la formula nuova è completamente esente anche dall'uso dei ciao Francesca dall'uso dei siliconi e quindi questo mi permette ad oggi anno 2020 nel momento in cui usciremo da questo periodo del covid di poter interpellare anche aziende strutture che sono specializzate non solo nella vendita dei cosmetici ma nella vendita di cosmetici a particolari categorie di persone vedi le persone che hanno allergie in generale con tutti i prodotti ma soprattutto persone che in questo momento ahimè soffrono di malattie come il cancro e che stanno effettuando o radioterapia o chemioterapia e voi sapete che per loro l'utilizzo di alcuni cosmetici è vietato bene per chiunque fosse interessata a questa informazione sappiate che i prodotti VOR hanno avuto una certificazione da parte dell'ente farmaceutico italiano che sono stati quindi testati e hanno ricevuto l'approvazione a poter essere quindi utilizzati anche in combo durante sia radio che chemioterapia e di questo sono molto felice perché oltre a essere vicino a tutte le donne sono sempre stata una persona che si è dedicata al sociale ed è il motivo anche per il quale ho dedicato e continuo a dedicare un'ora al giorno alle persone che hanno voglia di ascoltarmi queste dirette con delle informazioni e con dei temi che mi vengono proposti o semplicemente tramite una tabella di inviti e di persone che possono dire la propria e possono allietare queste giornate magari un po' più lunghe un po' più pesanti ritornando quindi al tema di VOR questa è la prima particolarità avere una pigmentazione del 57.9% con queste particolarità che vi ho già spiegato significa che all'interno di ognuno di questi vasetti quando io utilizzo il prodotto in maniera pura se ho delle forti discromie una volta che ho applicato la crema e poi come per qualsiasi fluido agito lo miscelo bene e poi lo applico intanto ne applico pochissima quantità ciao Debora Debora è la mia grande fan quindi la saluto con tanto affetto ma posso scegliere in generale di far diventare questo prodotto o un fondotinta fluido quindi diluendolo un po' a crema o addirittura una BB cream aumentando la diluizione a crema quindi sarete voi dipendentemente dal tipo di lavoro che fate dal tipo di pelle che avete davanti a scegliere che quantità di fondotinta utilizzare direi grazie direi che questa è una bella novità io per tanti anni ragazzi come voi ho portato nel mio borsone una quantità incredibile di prodotti e oltre a portare una quantità incredibile di prodotti il problema maggiore era che magari quel fondotinta quel prodotto nuovo che si andava a comprare serviva semplicemente per un'occasione due occasioni al massimo e poi dopo rimane lì nel borsone non lo utilizzi più e sono soldi che vanno via quindi il fondotinta VOR sia fluido che compatto vi do anche quest'altra informazione ha una durata come PIF quindi scritto sotto di 24 mesi e non di 12 mesi perché avendo eliminato quasi tutte le cere che normalmente portano il prodotto a rancidire che sono l'olio di lanolina l'olio di mandorla l'olio di ricino l'isopropile miristato ce ne sono tantissimi di emulsionanti che servono e permettono al prodotto di essere distribuito se no chiaramente il pigmento si separerebbe dalla parte cremosa che è chiaramente la cosmesi decorativa altra non è che la cosmesi per cosmesi intendiamo tutto il mondo delle creme a cui è stato aggiunto chiaramente il pigmento e quindi diventa cosmesi decorativa e quindi diventa make up altra particolarità all'interno del mondo VOR è la capacità di poter trasformare qualsiasi elemento da quello che è a qualcos'altro in un combo molto divertente perché il make up è anche gioco e quindi nel momento in cui ho creato una linea volevo che mi assomigliasse il più possibile che fosse pratica veloce e che potesse permettere a tutti quanti sembrano molto interessanti grazie Savi mi fa piacere ripeto qualsiasi domanda aggiuntiva volete fare sono qui e sfruttiamo ancora questo quarto d'ora di tempo per parlare di quello che volete ma siccome non ci sono domande è chiaro che in questo momento sto parlando del mondo VOR quindi vi dicevo sono trasformabili al di là quindi dei prodotti ne so io vedo un ombretto e penso che posso utilizzarlo solo come ombretto invece all'interno di quello che è la categoria dei miei prodotti essendo che sono stata particolarmente brava e attenta allo studio della lista INCI sono prodotti che si possono utilizzare in più maniere per esempio il classico wet and dry accomuna molti brand quindi la possibilità all'interno della cialda di poter utilizzare il prodotto o da asciutto o da bagnato ora sapete bene che esistono molti brand e che ogni brand ha anche un suo prezzo chiaro è che nel momento in cui mi faccio la domanda del perché esistono degli ombretti che sono venduti a 5 euro e invece il mio singolarmente viene venduto a 20 euro mi faccio una domanda io non potrei proprio venderlo un ombretto a 5 euro perché neanche io acquisto a questo prezzo dai miei laboratori perché mettere 57.9% di pigmento all'interno ha un costo ed è un costo importante dall'altra parte però è anche vero che se spendo 20 euro devo avere un prodotto che mi permette di fare tantissime cose e che ha anche delle qualità molto particolari nel mio caso per esempio se per caso vi cade l'ombretto ma la stessa cosa dicasi per il blush a quante di voi all'interno dei vostri borsoni o mentre lavoravate mentre lavorate vi girate abbiamo tutto sulla toletta e tac cade il prodotto per terra e lo dovete buttare ciao Maria e benvenuta ciao Paola benvenuta ecco normalmente un prodotto secco quindi come gli ombretti che sono dry sono asciutti inizialmente intanto non tutti sono wet and dry quindi solo alcuni e quello dipende sempre dalla pigmentazione una pigmentazione bassa non vi permetterà mai di poter avere un prodotto e di trasformarlo in wet quindi si parte da una percentuale minimo del 30% per poter considerare un prodotto professionale e performante in questa maniera ma quando si arriva quasi al 60% potete immaginare che le caratteristiche saranno che intanto il prodotto quando lo vado a prendere non mi fa il classico fallout per cui nel momento in cui prelevo con il pennello e vado a depositare il prodotto sulla parte interessata che sia l'occhio che sia la guancia non avrò il problema della caduta perché rimarrà ben aderente al pennello perché il pigmento è un pigmento stabile secondo poi nel momento in cui utilizzo i prodotti VOR da bagnato il colore diventa incredibilmente forte e se volete adesso sono rimasti solo 10 minuti e siccome la puntata non era inerente questo ma era inerente il mondo dell'Inps ricordo alle persone che si sono collegate che questa puntata verrà registrata e che da domani la potete trovare sul canale YouTube di VOR Makeup quindi i primi a 30 minuti che ci siamo dedicati alla parte Inps è tutta conservata e salvate e domani potete prendere tutte le informazioni dal sito YouTube oppure come lo ripubblico dalla mia pagina Facebook quindi però se siete interessate scrivetemi o su un direct message oppure su Facebook e fatemi sapere quali potrebbero essere delle idee di un video tutorial farvi vedere per categoria soltanto i fondotinta piuttosto che soltanto gli ombretti ma vi dicevo una delle particolarità divertenti che la prossima volta vi mostrerò è che se cade per terra un ombretto un blush VOR a differenza di un altro prodotto che normalmente non potete più ricompattare a causa della complessità e della pesantezza molecolare di 60% di pigmento semplicemente ponendo un Kleenex sopra il vostro blush o eyeshadow VOR che si è spezzato in più parti con il calore delle mani e una pressione l'ombretto e il blush si ricompattano perfettamente quindi non c'è possibilità che il prodotto si disperda questa per esempio è una particolarità che credo non tutte le linee possono offrire in più aggiungo le famose matite VOR dico famose perché ormai sono veramente molto conosciute da molti truccatori hanno la particolarità di essere intanto 18 cm quindi nel momento in cui le comprate sono alte circa 10 cm 8 cm in più rispetto alle matite che trovate comunemente in vendita secondo sono in legno naturale e non sono flattate che cosa significa non sono flattate significa che non hanno un rivestimento nella parte esterna che possa creare problema nel momento in cui cosa nel momento in cui voglio trasformare questa matita in un pigmento puro voi mi direte è vero che la parte esterna non c'entra niente con la parte interna e che quindi tutte le matite che siano in legno all'interno hanno una parte naturale vero ma nel momento in cui andate ad accendere non sempre si riesce a prendere solo la parte diciamo che è stata passata con il temperino ma si potrebbe andare anche a riscaldare questa parte che se invece ha avuto un processo chimico è ovvio che nel momento in cui con un accendino accendete per sciogliere la materia si scioglierà anche la parte del rivestimento che potrebbe anche creare intolleranze o comunque produrre delle allergie la matita vor che chiaramente ha sia per quanto riguarda la parte occhi sia per quanto riguarda la parte labbra sette matite per quanto riguarda gli occhi sette matite per quanto riguarda le labbra sto cercando il mio accendino all'interno delle porta matite riscaldandole quindi con l'accendino restituiscono e garantiscono un bellissimo colore che si raddoppia in questo momento l'accendino proprio perché è una diretta ovviamente secondo voi sta nel porta matite certo che no e quindi siccome non vi voglio lasciare vi spiego semplicemente anche questo cioè nel momento in cui io utilizzo la matita sulla mia mano la matita anche da asciutta per essere molto buona cosa deve poter fare deve lasciare un segno di un tratto distintivo nel momento in cui voi passate la matita deve poi però vedi lasciare una parte più colorata e deve darvi la possibilità di essere sfumata se invece con l'aiuto di un accendino ecco qui il mio accendino io vado a sciogliere una delle qualsiasi matite vor proprio in questa maniera ragazze non abbiate paura perché non vi brucerete guardate la magia di cosa succede diventano delle materie completamente cremose questi colori dipendentemente dal tipo di colore lo potrete andare ad utilizzare a vostro piacimento occhi labbra guance sopracciglie quindi parliamo di trucco moda parliamo intanto saluto anche albi saluto graziano che si è giunto a noi graziano per esempio è un collega che adora le matite vor quindi può lasciare anche un commento se è vero che queste matite si trasformano si trasformano e danno la possibilità di essere utilizzate in tante maniere altra particolarità all'interno del mondo vor graziano tutte le informazioni grazie sabi tutte le informazioni riguardante il mondo dell'inps grazie 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 a tutti i truccatori che chiaramente mi danno fiducia perché ovviamente posso essere solo che felice se accontento altre figure professionali all'interno del mondo della nostra categoria sappiate anche ecco questo è molto importante che all'interno del sito vor makeup tutti i truccatori hanno la possibilità scendendo giù nel footer quindi entrate in home page andate giù direttamente nel footer e trovate vor pro card la vor pro card vi dà l'opportunità di avere perpetuo uno sconto del 30% sull'acquisto online di tutti i prodotti vor makeup e uno sconto del 15% su tutta quella che è la parte formazione del mondo vor che ahimè in questo momento come chiunque è ferma ma che ci auguriamo possa riprendere da nord a sud il prima possibile sempre in sanezza quindi garantendo a tutti locali sanificati e l'opportunità di rilavorare di riprendere in mano i nostri meravigliosi pennelli sarebbero diverse le categorie ma ormai rimangono solo quattro minuti alla fine di questa ora di diretta insieme a voi ragazzi quindi non voglio aprire argomenti che poi potrebbero rimanere così in sospeso però vi invito lì dove ho suscitato il vostro interesse e volete avere qualche informazione in più ripeto o a scriverci a info chiocciola vormakeup.com oppure comodamente quando volete tanto siamo a casa e dobbiamo rimanere a casa trovate un momento per andare sul sito ciao Simone ciao amore spero stai bene andate sul sito www.vormakeup.com ciao Gaia e all'interno troverete le all'interno della home in alto troverete chiaramente la storia di vormakeup l'opportunità di scegliere il colore del fondotinta in base alla vostro tipo di pelle scoprirete anche un test divertente perché vado a vedere il sito molto volentieri grazie Sabi e troverete appunto una classificazione diversa rispetto a quella che è il consueto modo di vedere i fondotinta come categoria quindi nel mondo VOR troverete che tutti i suffissi che portano il mondo warm e golden vi danno l'indicazione che è un fondotinta ideale per pelli cosiddette solari che hanno quindi a prevalenza un pigmento giallo manifesto sulla pelle se invece la vostra pelle è lunare e quindi va dal bianco al classico colore più o meno medio scuro olivastro troverete tutti i prodotti fondotinta sia cremosi che fluidi senza la parola warm e senza golden e quindi sarete certe che quelle sono per le donne lunari quindi dal classico modello dita vontis con pelle chiarissima fino ad arrivare alle pelli scurissime perché vi ricordo che i prodotti VOR Makeup a livello di fondotinta arrivano fino al colore di pelle Senegal osservando sempre la cromia solare e lunare perché sono una grande appassionata di storia dell'arte e di armocromia ed è il motivo per il quale vi invito anche tramite le mie storie per chi non l'avesse visto a vedere l'articolo oggi uscito su Vanity Fair Italia grazie alla mano di Alessandra Celentano che mi ha compartecipato l'opportunità di scrivere un pezzo per Vanity Fair ai tempi del covid e con questo vi saluto vi ringrazio perché manca solo un minuto alla chiusura della diretta e ci vediamo domani con Dario Caminiti non mancate domani solito orario invece che alle 17 orario consueto alle 18 un bacio ciao